è andato su bene qua l'orto da quando c'è stacchacchio di moto e anche perché ti ritrovi e però lì te la ritrovi proprio no a toccare non tocca minchiarella orca trota corto per un pelo corto per un pelo e devi dargli qua più diretta e basta devi andare là a fare un po' di zonette devi andare là a fare un po' di zonette queste qua qualche sabato perché sennò non ha che no vai su di lì di fianco era quel cazzo di sasso che hai messo stupido eh perché ti sbilancia ti scappa via il culo sotto seve va su di lì e Marco vieni su vieni su prendilo da su lui va su di fianco no no non gli ha dato proprio non no 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 non fermarti io voglio passare di qua se no di là se la vuoi fare liscia ma qua devi andare via veloce no è più facile lì che qua è uguale meglio di qua no perché qua ne hai due guarda che ti salta addosso quindi stai attento e chiappalo vai di là allora vai di là dove hai salito il sere e basta e basta a posto certo a posto vai di là paolo va di là 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 anche questo è d'acciaio non c'è il buco l'ho buttata giù è perché mi si è spostata pure ho preso la sabbia no ma sono stato io perché mi sono fermato sopra e poi gli ho dato perché gli ho dato quando ero su è stato stupido io tanto adesso la rimettiamo via si tratta solo di imbucare il buco e basta no ho capito ma io mi sono fermato poi gli ho dato e l'ho sparata in vero arriva lungo sotto le pedane no no non toccano a zero noi sistemiamo testarelli e ma butta dentro i sassi in più via dentro dentro cazzo potete venire bello là bello bello ma smetti la cazzo vai zio scaletta grazie devo spaccare via questo si è questo però quelle parti serve a niente noi usiamo e riportiamo al suo posto e la mettiamo in cantina cazzo non si lascia in giro la roba giusto giusto Luca noi usiamo le cose ma poi le rimettiamo al suo posto non le lasciamo mica in giro che cavolo Sergio ma chi te lo fa fare no ma è pulita oh sotto c'erano i pesci c'erano i pesciolini cazzo nella cosa dai oh va che c'è lì la lumacchia che sta facendo la vedi non toccarla vedi come è nera anche lei buon lavoro dai piano va che va rimessa la agganciata sennò c'è la portaria eh ma da che parte per così quello lì da che parte va di qui o la fine va ficcato di qua basta mettere nel tronco dietro dai no di là devi girare Marco deve andare di là ho capito boh e di là e tu sei di lì di va bene girala così dai le stesse va bene va bene portala di là da te portala di là via via minchiarella ma chi cazzo sei sotto ah c'è questo qui via bravo a posto basta che cazzo si fa meno fatica da solo boh io non so come cazzo io non riesco cazzo c'ha una forza figaro che è boh che cazzo che cazzo